Nel mondo del doppiaggio esistono moltissimi tipi di voce. Oggi ve ne farò sentire tre. La prima è quella un po' più sbarazzina, più giovanile, che fa tipo Ciao, sono Peter Parker, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Cos'è quella faccia? La seconda è quella un po' più basso, un po' più figa, del tipo Ezechiele 25-17 Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvaci. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre perché egli è in verità il bastone di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E poi c'è l'ultima, quella da pubblicità da televendita che fa tipo Ciao, sono lo Chef Tony e sono qui oggi per presentarvi il nuovo set di coltelli Miracle Blade al prezzo di soltanto 437 dollari. Comprate ora, è un affare, fidatevi.